Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Fina 1-3 km di coda per un veicolo in fiamme in direzione Roma tra Valdarno e Arezzo. Sulla Fipili per lavori, un chilometro di coda in direzione Firenze tra Ginestra e Lastra a Signa. Rallentamenti tra Montelupo, Fiorentino e Ginestra. In direzione Firenze è chiusa l'uscita di Ginestra-Fiorentina. Segnaliamo che il cantiere chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al crono programma. Restano validi i percorsi alternativi su SP12 e A11. Chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Su raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata e ristringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pluneta. Buon sito Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!